Doppia denuncia per truffa da parte dei carabinieri di Battipaglia nei confronti di due uomini del posto. Entrambi sono ritenuti gli autori di una truffa ai danni di alcuni commercianti del centro cittadino. I due avrebbero utilizzato 700 euro in banconote false per fare shopping. A segnalare le anomalie riscontrate sono stati proprio i commercianti che hanno allertato i carabinieri. I militari, grazie alle descrizioni fornite dai negozianti, sono riusciti ad individuare e a denunciare i due truffatori.